Gentili telespettatori, buona giornata. Andrea Giambruno di Mediaset, che è il compagno di Giorgia Meloni, era stato accantonato proprio nella sua azienda Mediaset, dove lavora da sempre, da conduttore di telegiornale, da studio aperto, faceva la rassegna stampa, viene improvvisamente, quando la Meloni diventa premier, viene improvvisamente accantonato, lo mandano in un ufficio chiuso lì dentro a fare quello che faceva all'inizio della sua carriera, un chiaro demansionamento fatto per fare pressioni sulla compagna, la Meloni, per avere ministeri, insomma Berlusconi voleva il ministero per la sua amica lì, la Ronzoli, l'infermiera, voleva il ministero della giustizia perché, insomma, c'è qualche problemuccio, voleva la delega alle televisioni, insomma, a qualche televisione, insomma, doveva farsi i fatti suoi Berlusconi come sempre. E così utilizzava il povero Gian Bruno come un'arma di ricatto, come dire, mi ricordo una sua dichiarazione, dice, ma io alla Meloni mica possiamo essere contro, il suo compagno lavora per me una chiara e evidente minaccia. Questo Gian Bruno aveva chiesto trasferimenti, come dire, devo anche curare la figlia, lavoro magari da Roma, no, 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 devi venire a lavorare a Milano. Ecco, si sono messi contro quest'uomo perché compagno della Meloni. Oggi sembrerebbe che le cose siano cambiate, no? Silviuccio Caro magari ha parlato con Gian Bruno alla festa di compleanno di Salvini, visto che erano tutti e due invitati e chissà probabilmente oggi è in versione buona Salvini perché Andrea Gian Bruno sarà il padrone di casa di un talk show di politica su Rete4. Pertanto gli viene affidato un programma di politica. Da che, sentite, la scusa che l'avevano dimensionato era che adesso, visto che c'è la Meloni, la fidanzata premier, qualsiasi sua parola poteva essere fraintesa, poteva sbagliare un verbo, gliene avrebbero dette di tutti i colori. Oggi che gli viene affidato un programma di politica si capisce che quelle cose che dicevano, gli abbiamo tolto quei lavori lì perché se no erano tutte balle, come era ovvio, come era ovvio, come adesso non può più sbagliare, adesso se parla e sbaglia va bene, prima non andava bene. Sarà una trasmissione che andrà in onda dagli studi romani di Mediaset, quindi oggi può stare anche a Roma tranquillo, non deve stare più a Milano, capito? Prima non poteva avere neanche un permesso per tornare a Roma, adesso la trasmissione sarà a Roma, con la condirettrice di questa trasmissione che è la moglie di Giovanni Toti e sotto l'egida di Siria Magra. Avete visto che tutto comunque è la moglie di Toti e il fidanzato della Meloni. Il mondo funziona così, se non l'avete ancora capito. Non funziona realmente, adesso sto parlando in termini generali, come qui da me all'università. Non è che tu fai un qualcosa perché hai un certo curriculum, fai un qualcosa perché in quel momento sei amico di qualcuno ma più amico degli altri, perché tra tutti gli amici tu sei quello che ottiene quel lavoro perché sei in quel momento più amico di tutti gli altri amici. Ecco, vabbè. Così il compagno di Giorgia Meloni ritorna in grande ascesa Mediaset dove lavora ormai da quasi dieci anni. A partire dal prossimo settembre, ancora c'è qualche mese, sarà il padrone di casa di un talk politico in onda su Rete4. Rivela il settimanale Oggi nella rubrica curata dal giornalista Alberto Dandolo. Una trasmissione che andrà in onda dagli studi romani del Biscione e sarà sotto l'egida di Siria Magri e della moglie di Giovanni Toti, attuale presidente della regione Liguria. E ovviamente a settembre se succederà qualcosa al governo forse non avrà più il programma di politica. Capite un po' anche come funzionano queste cose. Così il First Gentleman, non è la First Lady ma il First Gentleman, farà le prime riunioni in queste settimane per definire al meglio il format. Sapete che ogni programma ha un certo tipo di pubblico. Ad esempio il programma di Giordano ha un suo pubblico, quello di Porrone ha un altro, quello di Del Debbio un altro. Quindi sono programmi di politica che sembrerebbe sovrapponersi, però in realtà sono indirizzati a tipologie di persone diverse. Quindi dovranno capire a quale target di persone indirizzare questo programma e quindi anche i contenuti e il modo di esporli devono essere per un certo tipo di pubblico. Il First Gentleman era già tornato in onda a metà gennaio per qualche comunque apparizione. Lui prima conduceva Studio Aperto e Tg.com 24. Per qualche mese si era occupato di Diario del Giorno dietro le quinte, come vi dicevo, chiuso in un ufficio, curatore della rubrica del Tg.com in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40. E così avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo si insediava e potevo essere possibile di critiche, diceva, ma sono un giornalista, questo so fare, raccontare, prima o poi dovevo tornare. Tanto pure se aprissi un bar direbbero che lo faccio perché è compagno di Giorgia Meloni. Ecco, che devo fare? Stare a casa a chiedere il reddito di cittadinanza? Diceva Gian Bruno al Corriere della Sera quando era stato demansionato da Silviuccio. Il Gian Bruno con Meloni sono insieme da sette anni. Proprio a Mediaset era venuto il primo incontro dietro le quinte di Quinta Colonna dove Gian Bruno lavorava come autore. Lui classe 1981 ha diverse collaborazioni con Mediaset da almeno dieci anni. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video.